Maltrattamenti ed abusi nei confronti di anziani ricoverati nella struttura socioassistenziale e l'accoglienza di Nuoro. La Polizia di Stato ha eseguito sei arresti tra il personale della clinica, cinque operatori e la direttrice ed ha effettuato anche diverse perquisizioni. Si tratta di una struttura che si trova nel centro di Nuoro, attiva da molti anni. Una casa di riposo felice a giudicare dalle foto pubblicate quasi quotidianamente sui social network, ma la situazione era ben diversa. Molti dei ricoverati sono disabili e gravamente malati. Per gli arrestati le accuse sono violenza e maltrattamenti.